bella a tutti ragazzi io sono fredericks e benvenuti nella mia vanilla oggi ragazzi continua ancora il progetto del kfc nello scorso episodio abbiamo fatto le due farm di polli che serviranno per darci il nostro cibo all'interno di questa vanilla e arriverà tutto il cibo all'interno di queste tramogge ora è arrivato crudo perchè alcuni polli sono morti perchè off camera ho giocato, stavolta non ho fatto la live ma ho giocato solo off camera ho fatto accoppiare i vari polli, solo questo l'ho fatto infatti e questo è il risultato, vabbè l'ho fatto accoppiare semplicemente con i semi oggi raga vorrei finire almeno la struttura esterna di questo kfc magari non so se andremo a finire anche quella interna ma direi di non perderci in ulteriore chiacchiere e iniziare quello che vedo che bisogna fare è finire la parte diciamo di cemento si, quindi prendiamoci delle slab, le smooth store slab non so manco se bastano queste vediamo un po', non so se ce ne ho altre mi sa di no eh ah, senti villager si ce ne ho un altro po' qua vediamo quello che riusciamo a fare prendo anche della concrete rossa dove l'ho lasciata, eccola qua ce ne ho poca, ma non ne ho fatta altra scusami eh ah si ok, ho questa pure continuiamo la cabina, questa qua diciamo del drive ora da qua devo fare a occhio perché io vedo solo l'immagine da davanti siccome la devo fare a occhio si, ho una mezza idea esatto, possiamo fare così seguire semplicemente il percorso e mi è avuta anche un'idea per levare queste perché non mi piacciono allora facciamo così sotto come battiscopa, come abbiamo fatto qua, ci mettiamo queste slab che sono più carine seguiamo tutto il percorso e di fare, non lo so, anche di qua continuare sta cabina di conseguenza bisogna fare così esatto continuiamo un po', non so fin dove senti Polly che casino che fanno meno male che le ho fatti fuori eh non le ho fatti dentro ora continuiamo questo non so cosa uscirà fuori ma io credo in quello che faccio allora mettiamo una slab di stone dall'altra parte le slab di smooth stone in questo modo troviamoci la spada che per il momento non ci serve non so se però qua fare un angolo non è brutto sto buco eh facciamo un angolo solo qua dai ok, questo si leva, si leva dobbiamo cambiare anche il pavimento qua posso fare così semplicemente e ci siamo solo da questo lato allunghiamo di uno la piattaforma in questo modo ci sta ma io direi che ci sta si continuiamo questa parte con le slab non so andiamo dritto poi magari qua andremo a fare una porta che l'interno non lo so se lo faccio di stesso slab, capì? il mio cane si è messo a bagliare nuovamente sentitelo, sentitelo tengo un chihuahua ok, dove vogliamo arrivare? allora di qua abbiamo lasciato uno, due, tre uno, due, tre uno, due, tre ok, direi di fino a qui e poi di girare esce piccolo però no, allora direi di farlo fino a qua sì quindi da qua ci sarà un'altra cosa così facciamo uno, due fino a qui dai dammela no qua chiudiamo semplicemente così esatto ok, casomai faccio così c'è più senso illuminiamo un po' la zona oddio che casino sti polli casino assurdo sì dai ci sta casomai qua facciamo due sportelli separati in questo modo poi andremo a fare casomai un'altra cabina di questa rossa un po' più sotto che facciamo da qua non lo so è la cassa quella roba là mentre lì sotto andremo a fare dove effettivamente danno i panini infatti collegheremo alla cucina penso e useremo anche un design di certi fornelli che ho portato all'interno di uno shorts se ancora non avete visto quel video beh andate a scorrere tra i miei shorts dovreste vedere un video dove faccio dei fornelli con dei campfire dei kart eccetera ma ora continuiamo vorrei dormire e direi proprio che lo faccio però mi porto il mio letto lì sopra esatto letto viola andiamo andiamo let's go dormiamo qui oggi voglio fare buona parte della struttura mi serviranno secondo me altre smoothstone slab perché sono poche sì dove vogliamo arrivare sto a fare un casino si trova si trova noi entriamo qua è fatto qui direi di chiudere e sopra ci andrà fatto tetto di slab quale slab vogliamo usare stavolta per fare quel tetto io direi o stavolta queste un'altra volta o queste o la diorite no diorite andesite levigata come si chiama questo dove sta l'endisite non lo so o se slab o queste altre vediamo un po' la differenza non dovrebbe essere eccessiva questa è così e questa è così ma sono uguali ah no guarda io userei più la stun sì meglio la stun prendiamoci un po' di stun slab di stun e andremo a fare il nostro tetto qui che continuerà anche un po' in avanti da quel che vedo quindi fa così e poi qua ci sarà tipo l'insegna del mac drive cioè ancora questo mac drive questo fissato del kfc drive non è che si confonde un po' con le mura non riesco a vedere bene diciamo un altro po' così è così sì così lo facciamo continuare non so fin dove e qua facciamo uscire solo di uno ho sbagliato ho sbagliato ok in questo modo esatto ora vado sopra in qualche modo e lo riempio ce l'ho dei scaffolding credo di sì ok facciamo un pillaroni qui così quando voglio andare da qualche parte del kfc beh uso le litre è fatto tra l'altro quanto stanno le mie litre 177 stanno più o meno a un terzo dai credo che per questo video basta no? casomai prendiamo un po' di esperienza da qualcosa è fatto oddio che visuale wow devo attirare lì sopra ce la faccio ce la faccio qua chiudo tutto ok fatto fatemi vedere ci sta ci sta ora questa linea rossa deve essere interrotta tipo non lo so tipo qua sì qua mi serve ora della concrita nera così terminiamo questa parete sopra e un botto di vetro concrita nera c'è una propria volontà tra l'altro devo fare anche ogni tanto qua dei buchi sì tipo delle finestrone allora più o meno allora la parte sotto vabbè tutto dritto ecco mi salvemo ok poi ci saranno due finestre qua qua quindi è uno due tre quattro cinque sei sette non si vedono tanto le divisioni qua sono sette quindi posso fare non so così facciamo così poi sopra tutto dritto eh ma ste finestre un po' un problema pure questo sarà tutto dritto fino fin qui qua ce ne metto una centrale di due me sto sci esatto più o meno sta uscendo mi sto uscendo dai sì ok ora devo salire sopra tutto si mette ora due finestre come sotto però la solita mi sa che lascia due di spazio quando sono rimasti qua uno due tre allora facciamo così ok si trova poi uno qua uno al centro sono uno due uno due e qua si copre tutto e questo è fatto ora qui continuerà la linea sotto ci andrà tutto vetro comunque per fare quella griglia che ci sarà dietro alla fine ho pensato a della pietra non so qualche tipo di pietra nera visto che ce n'è un botto devo vedere un po' questo farà tutto il giro del vetro ti fa così così vabbè così vediamo ora mi serve del vetro man mano vedo si vetro nero è poco penso che sia poco ci facciamo anche la scritta rossa ma si prendiamoci della concrete rossa prima o poi va fatta quindi ora come salgo là sopra piccolo problemi usiamo saliamo da qua non ci arrivo là sotto però aiuto e come li metto io là? non so se mi basta provo a fare qualcosa due tre secondo me secondo me non basta andiamo di qua più comodo secondo me raga questo non basta me ne mancano due tre quattro cinque però poi mi manca tutta la parte là dietro devo prendere per forza ora no ok c'è un po' di vetro sacchi di ingostro anche allora nessun problema poi devo mettere qua c'è un po' di sabbia sicuro cinquantasei aia lo sprechiamo lo sprechiamo perché? perché non lo so manco io ok ma sta a fare ma sta producendo sì ma continuo a darmi pollo crudo non capisco il perché allora ah tra l'altro devo anche fare il filtro perché io le piume non le voglio casomai per le piume visto che penso ci sia un villager che scambia piume per qualcosa di utile casomai ce le dividiamo le mandiamo non lo so in qualche altra cesta sparsa per il nostro villaggio una cesta lì sotto questa quella viola vogliamo fare una cesta vicino al muro non lo so poi vediamo ma comunque qui le piume non ci andranno comunque sopra va fatta pure la struttura tipo del terrazzo eh sì poi lui fa anche un'altra linea nera qua davanti sì voglio farmi la scritta dai facciamo prima sta scritta così me la levo dai come la faccio una scritta senza scalini senza niente ma lo so manco io kfc poi lo spazio è piccolo allo mettimi qui perché mi piace sta shift adiami la facciamo calcolando lo spazio qua k eh ma la f come la faccio per poi me la f eh vedi mmm 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 è questo più piccolo che si può fa kfc ora stavo dicendo da qua c'è un'altra linea nera però davanti quindi mmm non lo so facciamo qua una linea nera che si collega là sopra ce la inventiamo noi io direi di salire dritto poi fa due due eba arriva fino a sopra e vabbè fammelo storto dai fino a sopra quindi fino a qua mmm e come ci arrivo io qua sopra eeeh abbiamo un problemino c'è questo così no no allora ho un problemino di fondo faccio così lo metti a fianco due è un po' storta mmm aiuto eeeh ci accontentiamo vediamo ok ci sta però io invece di farla da fuori la sostituirei col vetro così almeno passare sotto la scritta piccone così il touch eh usalo no facciamo così uno due due voilà ora cerchiamo di salire sopra e finiamo iniziamo a fare la parte di dietro eeeh dov'è? da qua sì qua 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 due e tre questi due e ci siamo ora da fuori posso levare quelli sì c'è un blocco là sopra che mi dà fastidio perfetto devo solo rompere quello vediamo ora sì ok perfetto questa cosa è fatta ora iniziamo a concentrarci sulla parte del retro poi vediamo pure come fa il pavimento dentro allora per quanto riguarda il retro io farei una cosa dritta sì qua è sempre dritto poi a occhio faremo una cabina qua poi magari questi levo la cabina la faremo facciamola da qua che arriva fino a sì mi scordo che non ci posso mettere slab sopra è che devo far così ogni santa volta facciamo la riva piccola mmm facciamo due sportelli per il cibo quindi facciamo così 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 sì così conseguenza questo fa così mettiamo altre smooth stone slab e facciamo anche qua qua posso room ecco perché qua ci va il pavimento che non so come l'andremo a fare non lo so il dentro devo vedere le foto quindi ancora non so come fa il pavimento nel dubbio all'inizio come pavimento ci metteremo del legno legno di spruce ovviamente trasformato buonanotte sì ci metto del legno riesco ad entrare perfetto anche qua ci mettiamo del legno mettiamo ogni tanto anche delle torce per iniziare sì facciamo così voilà esatto anche non ce l'ho fatta volevo saltare anche di qua verso modo verso male dall'interno li facciamo rossi questi tanto manco si vedo da fuori qua riempiamo riempiamo tutto ma sì eh ma qua ci va l'entrata come la faccio questa entrata beh se vuoi fare un'entrata qua allora la posso fare però devo accorciare un po' qui cioè ok facciamo un piccolo cambiamento così ci facciamo anche l'entrata questo lo metto qua qua ci metto del vetro in questo modo questo lo spostiamo qua facciamo così ok facciamo così il restante qua copriamo di vetro nero l'altro manca qua e sta apposta ah ok la amico blocco perfetto qua facciamo come prima allunghiamo ad uno in questo modo io qua posso fare la mia entrata per adesso leviamo queste lastre di vetro poi se ci serviranno non lo so per adesso solo qui si chiude vogliamo fare il vetro un po' no allora facciamo ci facciamo una vetrata qua quindi fare così e così uno due e tre qua abbiamo la seconda entrata e si qua si chiude tutto perfetto ora devo riempire di ste smooth slab non so ma così mi bastano ma non credo mi bastano quindi devo cuocerne altra anche no che sto dicio questa e allora allora a posto questa trasformiamo tutta ok spero mi bastano facciamo tutto il giro con ste slab ora ah devo fare il tetto anche qua si facciamolo quant'era alto tre si tre spero mi basta sta congretta rossa facciamo così secondo me no cioè per uno bah prendiamo un po' di congretta rossa prendiamo un po' di quella nera non si sa mai e torniamo là torniamo qua ho finito il cibo così mettiamo l'ultimo blocchettino là sotto qua c'è andrà fatto il tetto qua chiudiamo dritti però dubito comunque che mi bastano se ne vanno come a pane qua che bello che non si sentono i pull lì che silenzio le ho finite non pensavo mi sarebbero finite invece le ho finite vediamo un po' se c'ho della stone cotta ma non credo no vado a recuperare un altro po' di smooth stone non ce l'ho no ora facciamo così due stack facciamo 3 1 2 3 ce l'ho carburante si perché non si sente il kart non so per quale motivo non sento i suoni strano eh non so perché non si sente provo un attimo sci ah ecco mo si sente ok questa non parte perché non c'è lava investiamo subito la nostra dorata farm qua è un attimo perfetto dove manca ci metto i secchi e gli altri li metto qua magari va perfetto me la sto cuocendo alla grande 48 so comunque poche dai ne fanno un po' e ci finiamo il muro e iniziamo a fare il soffitto e la parte sopra ma non ce ne ho altre non chiedetemi perché c'ho una zappa di diamante qua con efficienza di due tra l'altro si sta facendo notte andiamo a dormire e torniamo qua buongiorno torniamo là sotto aia ho voluto fare il fighetto dai per adesso usiamo questa direi che più che è sufficiente tanto mentre metto qua l'altra si fa quindi non è quello il problema non l'ho manca incarato visto che mi trovo qua finisco il tetto ok continuiamo come stavo facendo no metto tutti quanti ci becchiamo appena ho fatto ok raga ho finito tra l'altro mi sono anche avanzate non so cosa me ne faccio ora dobbiamo pensare fare il tetto per fare il nostro tetto ho bisogno eh allora facciamo prima uno strato tutto nero di concrete e poi ho bisogno dei muretti muretti neri non lo so come li facciamo non so se si possono fare con la plex o altrimenti penso siamo i deep slate ora concrete nera ci basta per chiudere tutto dobbiamo provare poi penseremo all'interno nel prossimo video spero mi basta quanta ne tengo no non mi basta devo farmi altra concrete nera penso ah comunque dentro poi andremo a mettere anche tutti i standardi quelli a righe bianche e russe non mi basteranno mai nella vita uno stack e mezzo di concrete ma ci proviamo anche perchè mi serve per continuare la parte là devo controllare se la tengo a casa avrei potuto usare pure la lana si però se pia fuoco poi è un problema no mi basta credo mi manca non lo so uno stack e mezzo forse anche due eh no secondo me qua mi manca più di uno stack eeeh che dire che dire ragazzi ce la dobbiamo fare prima di farla però vado un attimo a casa e controllo nel frattempo mi porto anche facciamo due stack e due stack quella che c'esce facciamo ah va demolita anche sta farm di polli devo spostare tutti quei polli ma do allora dimmi che c'ho della concrete nera mmm ah vediamo i muretti io qua c'ho della pietra nera blackstone con la blackstone ma c'ho anche questi ah blackstone bricks potrebbe essere interessanti eeeh meno male dai comunque direi di fare mmm allora vediamo un po' tutti e tre quale ci piace più uno due tre secondo me mi piace più questa che tra l'altro non so ma che cos'è mi piace più questa blackstone wall ah proprio l'originale mi piace tanto questa eeeh dove sta blackstone wall perfetto oddio è partita alexa è partita alexa ecco una stazione basata su due di elodie alexa stop è partita alexa facciamoci la blackstone si blackstone buonanotte la black concrete uno stack e 8 perchè uno stack e 8 perchè non c'ho sacche non mi dico ho finito le mie sacche ce ne avevo raccolto uno stack in live e le ho finite oddio ho finito le sacche di inghiostro eeeh che dire ragazzi la dobbiamo recuperare recuperiamo un po' di sacche di inghiostro mettiamoci un looting facciamo subito e voilà mettiti la chest plate qualche squid dai impossibile ho ucciso tutti i squid eccoli dammi un po' quando me la date 3 già va bene per sicurezza ne uccide un altro mmm dobbiamo ancora finire di fare tutta l'armatura di miei terite tra l'altro una delle tante cose che dobbiamo fare perfetto usciamo facciamoci un buco si esce ora ma perchè non volo perchè non c'ho l'elite ho trovato una crafting sopra le mura non so per quale motivo vabbè l'avrò messa qua io perchè mi serviva eeeh facciamoci black dye e black concrete precisi azzù spero mi bastano e ora la parte più noiosa è questa mettiti qua e fai tasso destro tasso sinistro oppure fai così ok primo stack andato comunque devo levare sto tronco che mi rompe perchè 63 me ne manca uno che fine ha fatto ok 64 facciamo il secondo stack prima che si fa notte mi piace un creeper dietro sicuro veloci finito ora raccogliamo tutto me ne manca sempre uno non so per quale motivo dove sta questo va perso è perso uno come è possibile vabbè non ci concentriamo su sto pezzettino finiamo il kfc questo dovrebbe bastarmi dovrebbe anche avanzarmi dentro per decorare possiamo usare anche la terracotta russa però tipo quella la con i grigori però non mi ricordo com'è fatta la texture di quella rossa quindi lo vediamo subito appena finisco il tetto qua ok mi è bastata mi sono avanzati anche 13 pezzettini che tra l'altro mi servono perchè devo finire anche sta parte dietro devo fare la parte che sostiene sto contorno capi quella andrà fatta con i wall che abbiamo preso qua continua qua dietro non lo so penso di chiudere completamente come chiudiamo non lo so o chiudiamo così semplicemente oppure per coprire questo buco anzi no facciamo così perchè qua ci metto i wall e ho finito un'altra la tablex senti sta parte me la lascio così non mi interessa dovevo fare il tetto l'ho finito casomai in live penso che oggi la faccio ci facciamo un'altra concreta ora ero curioso di vedere la terracotta russa io ce l'ho della terracotta domanda l'ho usata un po' per il golem non so se mi è avanzata vediamo se mi ha prodotto un po' di pollo almeno il pollo dai è ancora pollo crudo vabbè penso che per un po' dà il pollo crudo poi la smitta facciamoci una scaletta per salire voilà va fatto tutto il pavimento qua andiamo a casa voglio verificare la terracotta com'è quella con i giri cori che se non mi sbaglio devi cuocerla un'altra volta prima la colori poi la cuoci dovrebbe trasformarsi in qualche modo terracotta io penso di averne qua questo qua mi servono dei fiorellini rossi ma può essere quando mi serve qualcosa non ce l'ho mai c'è io non lo so recuperiamo un po' di colorante rosso eh io non lo so colorante rosso red dye dove lo tengo ok c'ho delle poppy facciamo così e abbiamo qui una crafting terracotta rossa voglio solo fare un test per questo non la cuocio tutta vado un attimo alle fornaci vediamo come esce nel frattempo uccido qualche squid e finisco quel pezzetto di concrete nera perché mi dà fastidio terminare il video e non finire quella parte 5 5 sacche madossa spada non vedo l'ora di avere un beacon tra l'altro eh si ci devo fare la farm di Wither Skeleton ci facciamo qui il black concrete tanto mi servirà pure per l'interno 8 8 come 8 red concrete ah e se non ti fai tutti i colori qua black concrete ora non me la bagno tutta ma solo un po' cioè pure qua lo posso fare tranquillamente giusto per finire quell'angoletto perfetto dovrebbe bastarmi per là vediamo com'è wow eh si potrebbe usare per l'interno si magari questa mischiarla con della concrete bianca la concrete bianca però mi sa che non è proprio bianco bianco come il quarzo secondo me dobbiamo usare o delle ossa cioè dei blocchi di ossa perchè la terracotta bianca com'è ancora questa terracotta sono fissato concrete bianca ok facciamo qui concrete bianca e sapete secondo me anche questa va bene guarda perchè uso il quarzo se esiste questa cioè sono proprio stupido io continuo usare il quarzo c'è questa ma ok per l'interno penso useremo anche questa concrete bianca ma ora andiamo a mettere questi ultimi pezzettini interraggio semplice uno due tre e quattro e questo è fatto ora prendiamo il volo vediamo se ci piace ok ho messo pausa casomai in un punto sbagliato un attimo come si fa ok l'ho fatto sto scendo bene ora non ci resta che collegare questa parte esterna con dei muretti al capo e fecce effettivo se no così sembra che non lo so è sospesa e dobbiamo fare l'interno sotto al pavimento andrà fatto lo smistamento automatico che divide piume e pollo le piume le manderemo non lo so in qualche altra casa sparsa per il nostro villaggio mentre il pollo andrà all'interno dove andremo a fare la cassa faremo una cesta con i panini si con i panini una cesta col pollo perfetto ma ragazzi anche per questo video è tutto spero vi sia piaciuto se è così lasciate un like di supporto e commentate seguitemi su vari social troverete il link in descrizione da Fredrix è tutto ciao ragazzi